ciao ragazze benvenuti sul mio canale oggi vi voglio presentare un'azienda che è riuscita a sorprendermi con i loro prodotti io non sono molto facile da sorprendere ma questa volta sono stata piacevolmente presa dalla profumazione dei prodotti che ho avuto la possibilità di ricevere oggi vi parlo dell'azienda phb ethical beauty che è un'azienda di famiglia pioniera nel settore che ha vinto un sacco di premi per i loro prodotti beauty i loro prodotti sono realizzati a mano nel regno unito e non sono testati sui animali hanno la più vasta gamma di prodotti naturali vegan cruelty free e ha le certificati al mondo hanno realizzato prodotti per tutto e tutti prodotti skin care cura dei capelli cosmetici minerali prodotti skin care linea uomo rimedi naturali per una pelle sensibile con enzeme psoriasis o agne tutti i loro prodotti sono privi di alcol ingredienti di origine animale olio di palma prodotti chimici e anche sono fortemente contro la sperimentazione con i suoi animali i loro prodotti sono già venduti in 20 paesi in tutto il mondo mentre il 20 per cento dal loro profitto è dato in beneficenza per aiutare tanti animali e persone dal regno unità e dal mondo ma andiamo a parlare un po' dei prodotti che mi hanno mandato due a numero primo è brightening cleanser che è il detergente luminoso con ilanghi lang e papaya è un prodotto vegan cruelty free certificato halal e se non sapete che significa questa certificazione halal in realtà una certificazione in quali ingredienti sono ammessi della religione islamica è molto importante per loro che tutte le persone possono usare questi prodotti questa è la scatoletta vedete quanto è carina e come dire questo arrancio mi piace veramente molto sono riuscita a fare delle bellissime foto per instagram vi lascerò comunque da qualche parte le foto che ho fatto per per instagram allora questo è il packaging di cartone devo dire ragazze che il packaging e il rispetto per la terra per la natura è tutto eco friendly biodegradabile reciclabile infatti loro stanno dicendo sul sito che una volta terminati i prodotti si possono rimandare all'azienda per essere riutilizzati ecco il nostro prodotto troviamo qua 100 mele di prodotto per un'apertura di 12 mesi guardate quanto è carino davvero molto molto carino questo barattolo di latta con la parte argentata il erogatore quello che significa che uscirà fuori una minima quantità non sprecamo il prodotto riusciamo ad usare così come vogliamo noi questo prodotto è privo di ingredienti di origine animale è privo di parabeni se le es dea tea pegg alcol fenno si etanolo e senza profumi artificiali o fragranza senza petrol chimia metti li sozia ziale nonno talati coloranti oli siliconici o minerali formaldeide e glicole propibonico insomma senza tutte le schifezze esistente al mondo è un prodotto puro naturale certificato questo detergente artigianale è creato per aiutarci a rimuovere tutto il trucco e l'impurità dal nostro viso aiutando in stesso tempo il rinnovamento cellulare mi piace molto il profumo di questo prodotto perché profuma molto di agrumi e il notore che mi piace di più questo mondo per me è proprio un relax il momento in quale sto usando questo prodotto che rimuove davvero molto efficace il nostro trucco altro della meravigliosa profumazione di questo prodotto e la sua efficacia ci stanno dicendo che gli oli di langi lang e mandarino aiutano a riechilibrare la pelle e agisce come un rinnovamento naturale delle cellule ideale per illuminare la pelle opaca e riparare il scolorimento dei tessuti quello che significa che altro di pulire il nostro viso si comporta come un trattamento dando luminosità e idratazione alla pelle ottimo detergente viso mi è piaciuto moltissimo ho detto per me è molto rilassante il momento in quale lo uso per il fatto che il profumo è il profumo che mi fa felice un altro prodotto che vi presento ma purtroppo non l'ho usato per dirvi la sua efficacia anche perché arriva in questa scatoletta quasi porta portagioello guardate una scatola portagioello questo è per me io lo metto sopra la mia scrivania perché non vi posso spiegare che profumo esce di qua è un sapone scrub guardate quanto quanto è carino e quanto è delicato e non mi non mi sazio mai di di anusare questo prodotto guardate all'interno c'era proprio un pezzettino di di arancio e un prodotto naturale creato in modo artigianale con tanto amore in Regno Unito il fatto che non riuscirò a usare questo prodotto perché è molto molto carino è molto carino molto delicato e profumato un po bene comunque vi parlo di lui di quello che dovrebbe fare comunque allora questo è un scrub zucchero arancia e limone è un prodotto perfetto da usare sotto la doccia è un prodotto esfoliante e idratante in stesso tempo è realizzato con zucchero burro di cana burro di cacao e oli vegetali questo scrub pulisce per bene la nostra pelle delle cellule morte lasciando una pelle morbida idratata e molto luminosa qua sono 100 grammi di prodotto per un'apertura di 12 mesi è un prodotto senza parabeni senza sls senza profumo artificiale colori sintetici, petrochemicali, senza talco, senza olio di palma, senza ingredienti animali, ALS, EDTA insomma è un prodotto naturale il più puro scrub di zucchero che ha mai esistito vi lo consiglio davvero con tutto il cuore prima per la profumazione perché insieme ai prodotti mi è arrivato questa brochure che è l'ethical skin care weed di PHB l'ethical beauty skin care hair care e cosmetics in quale ci fanno vedere esattamente tutte le gambe con i loro prodotti e mi hanno mandato due campioncini da provare vi lascerò comunque nell'info box il link con il loro sito giusto perché dovete andare a vedere tutte le loro gambe di prodotti speriamo che arriverà pure in Italia prima o dopo questo brand perché io penso che i loro prodotti devono essere presenti nella skin care routine di ognuno di noi vi consiglio ad andare a sbirciare sul loro sito ci vediamo in un prossimo video ciao